Musica Si chiama Castelli di Memoria, il progetto dei solisti aquilani finanziato dal Ministero per l'Ambiente e dalla Fondazione Carispac con diversi patrocini, che ha visto la sua conclusione dopo un successo strepitoso. Nato a febbraio scorso, ha coinvolto dieci comuni del Clatere, l'Università, le cooperative e le associazioni più attive, oltre la musica, perché concerti a parte nei vari luoghi del territorio, compresa Matrice, sono stati portati avanti incontri costudiosi, ricercatori, persone del posto, accompagnati da degustazioni in mercatini tipici, un'esperienza ben riuscita per rivitalizzare le aree interne. Siamo molto felici, contenti di questi risultati, un progetto che ha visto la partecipazione di dieci comuni dei Crateri 2009 e il cratere di Conamatrice del 2016. Attraverso il progetto Castelli di Memori abbiamo vissuto le storie, le risorse architettoniche, storiche e artistiche di questi borghi. Abbiamo avuto tanta gente, tanti abitanti, ma soprattutto tanti turisti che hanno partecipato con noi a queste giornate veramente meravigliose. Il progetto ha portato anche alla nascita di un podcast curato dallo scrittore aquilano Alessandro Chiappanuvolo e di un documentario del filmmaker Francesco Polucci. Una formula vincente perché ha unito la musica all'arte e alla natura, lanciando messaggi significativi. Ma ha dimostrato pure come le comunità locali siano importanti nei processi di ricostruzione. Anzitutto bisogna menzionare la disponibilità dei solisti aquilani che hanno deciso di affidarmi la creazione di un podcast che non parlasse solo del progetto Castelli di Memorie, ma che invece potesse essere un strumento utile non solo per il territorio abruzzese ma per tutti i paesi, appunto per creare un podcast che potesse essere una cassetta degli attrezzi per i territori marginali, per le aree interne all'interno del quale cerchiamo di raccontare la storia dei paesi, cosa li ha portati a questo periodo di declino e quali strategie si stanno attuando per invertire questa tendenza e per sperare in un futuro migliore e sostenibile.